Meno sprechi, più risparmi, più fai bene al pianeta. L'uso intelligente dell'energia è lo strumento più prezioso per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici. Questo è il principale messaggio che la multi-utility italiana Estra e Legambiente vogliono lanciare con energicamente il progetto che si propone di avvicinare i ragazzi alle diverse dimensioni del cosiddetto smart living attraverso un innovativo percorso ludico, didattico, da fare in classe. All'iniziativa hanno già aderito oltre 70 scuole toscane e circa 350 a livello nazionale per un totale di quasi 12.000 alunni. Energicamente comprende anche dei corsi di formazione per gli insegnanti e un'iniziativa di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle secondarie di secondo grado delle province di Arezzo, Prato, Siena, Ancona e Ascoli Piceno. Energicamente è un progetto che ormai è solido all'interno di Estra. Attraverso questo progetto abbiamo già coinvolto nel passato migliaia di studenti. Nell'ultima edizione sono stati coinvolti circa 6-7 mila studenti, centinaia di classi. Oggi facciamo un salto così come lo sta facendo un po' tutti i giorni Estra che si sta rappresentando sempre di più come una multi-utility di livello nazionale. E ci sembrava logico estendere anche questo progetto che riguarda l'educazione, la cultura dell'efficienza energetica, tutti i temi dell'ambiente e dell'innovazione. Ci sembrava giusto trovare una soluzione innovativa che potesse offrire questo progetto non più nei nostri territori d'origine, in Toscana, in Umbria, in Molise, in Abruzzo, nelle Marche, ma a livello nazionale. E grazie a un nuovo modello tutto nel segno del digitale, insieme alle Gambiente e ai nostri partner, siamo in grado oggi di offrire questa progettualità a circa 70 mila studenti, a circa 6 mila classi, un complessivo di 800 mila scuole. Quindi siamo in grado su scala nazionale, in collaborazione con Lega Ambiente, con l'aggiunta di un contenuto altamente tecnologico. Quindi non c'è solo il tema ambientale che viene trasferito ai nostri giovani studenti delle quarte e quinte elementari delle scuole medie, ma c'è anche un tema legato all'innovazione. Perché la buona pratica attraverso il quale si elabora questo progetto è tutto attraverso il digitale. Quindi c'è un tema di capacità di esplorare a livello dello strumento telematico questa buona pratica. Se ognuno fa la propria parte riusciamo ad affrontare questa grande sfida di riduzione dei consumi energetici del 40% entro il 2030. È una sfida portata di mano, ma lo dobbiamo volere e dobbiamo anche formare i cittadini e le nuove generazioni soprattutto ad accogliere questa sfida e ad essere consapevoli di quello che c'è in gioco.